Buon giovedì 2 luglio. Prima di tutto voglio ancora ringraziare Adriano per quanto mi ha scritto relativamente al sommerso di bene che non riusciamo a vedere, che è la maggioranza che non riesce assolutamente a esprimere tutta la potenzialità d'amore che è capace di portare in una dimensione etica, cioè nel dovuto nei confronti dell'altro. Siamo oscurati da una minoranza facinorosa, semplicistica, che cerca in tutti i modi di trovare delle spiegazioni riduzioniste a proprio vantaggio e non certamente per il bene comune, quella minoranza esigua che oscura la luce stupenda che esiste nel sommerso che faticosamente tutti i giorni cerca di esprimere il meglio di sé e lo fa con generosità. Penso non solo alle persone che esprimono delle professionalità ma penso anche a tutta la molteplice sofferenza che caratterizza oggi il mondo giovanile che attraverso quella sofferenza esprime senza saperlo una intuizione che pone una domanda di radicale cambiamento, anche se noi cerchiamo in tutti i modi di mettere in silenzio quella domanda, di fare in modo che magari sia ricondotta a delle categorie psichiatriche o sociologiche o anche delle forme irridenti di quelle domande stesse. Ho già ricordato in altre riflessioni i bamboccioni e gli sdraiati non sono altro che espressioni verbali attraverso le quali si cerca in tutti i modi di esprimere un giudizio negativo su un comportamento che non in sé non è naturalmente auspicabile ma è un comportamento che ci riporta a considerare in maniera profondamente radicale il nostro modo di vivere, non perché sdraiarsi o essere eternamente bamboccioni possa essere la chiave di lettura dell'esistenza ma semplicemente c'è un sommerso di domande che ci chiedono di fermarci un attimo, non di staccare la spina come ho detto ieri, di fermarci per elaborare, per incominciare a ragionare in termini di legami, di relazioni, in termini che usiamo dire essere sistemici, ecologici. Questa è la questione aperta oggi dalla crisi profonda che stiamo vivendo ma è una crisi che se riesce a volgere lo sguardo verso le infinite risorse che caratterizzano il bene che continua a persistere nonostante l'oscurità generata dal male voluto intenzionalmente da pochissimi i quali hanno fatto della ricchezza una sorta di divinità. Ecco questo è il punto critico sul quale oggi noi dobbiamo anche in queste settimane estive che ci farebbero pensare magari sospendiamo le cose mettiamoci tranquilli facciamo passare l'estate questa è come se l'estate fosse una stagione inerte assolutamente indisponibile a cogliere le istanze di cambiamento che non conoscono stagioni ogni stagione è un susseguirsi di tempi che noi dobbiamo imparare ad ammirare attraverso la natura ma non sospendere sul piano antropologico cioè l'estate siamo abituati ai tempi della scuola no certo punto la scuola finiva tra l'altro qualche decennio fa c'erano parecchi mesi di vacanza no e questo era un modello di sviluppo dove ci si chiedeva di stare tranquilli di non pensare a niente ma in quel non pensare a niente non fare niente pensate forse che coloro i quali oscurano il bene sono stati inerti e tranquilli questo non è assolutamente immaginabile dunque io credo che oggi è una questione che mi ero posto devo sospendere le riflessioni per il periodo estivo per non magari disturbare per non costringere un po' le persone penso di non costringere nessuno liberamente le persone possono ascoltare ma magari ma sì ma questo qua cosa sta predicando tutti i giorni anche d'estate è una domanda che mi sono posto e alla quale ho cercato di dare una mia interpretazione attraverso uno sviluppo di quella domanda e credo sia quanto mai necessario oggi invece di intensificare le attività culturali che ci permettano di incominciare a riflettere criticamente rispetto al nostro comportamento siamo di fronte a una crisi molto profonda molto radicale che tocca non tanto la disponibilità del denaro adesso ci promettono ci saranno 180 miliardi ma non si sa quando saranno realmente disponibili ci sarà un indebitamento delle generazioni future per favore da questi ragionamenti usciamone perché se no non ne veniamo fuori ci rassicurano che saremo tranquilli quando sarà trovato il vaccino il farmaco perfetti per sconfiggere questo virus ma non ci dicono contemporaneamente che la cosa più saggia sarebbe quella di incominciare a cambiare modo di vivere perché altre epidemie potrebbero essere all'orizzonte se noi non cambiamo modo di vivere e non saranno sicuramente i vaccini a stabilire la salvezza definitiva degli esseri umani rispetto alla loro estinzione questa idea di immunizzazione senza modificare i comportamenti e gli stili di vita la trovo estremamente sciocca assolutamente inutile perché se noi continuiamo questo modo di vivere tranquilli la crisi non solo persisterà ma si approfondirà ancora di più le questioni del surriscaldamento climatico l'ho ricordato in moltissime occasioni continuano ad esserci la paura per le dell'epidemia non ci deve in nessun modo distogliere dall'impegno nei confronti della questione ecologica e visto che ho deciso di continuare con le riflessioni oggi volevo aprire anche una piccola parentesi che non voglio concludere oggi non voglio chiudere oggi questa parentesi aprirla sulla questione della parola una persona che stimo molto che ha una capacità di disorientare attraverso una sua impertinenza nel dire impertinenza feconda naturalmente essere impertinenti e non adeguarsi alle condizioni date ma chiedere spiazzando che si faccia un approfondimento su cose che magari lasciamo per scontate questa persona mi ha posto una questione una domanda non che aspettava una risposta ma un invito alla riflessione sulla parola e mi ricordava mi faceva notare leggendo un testo che la parola è esattamente lo specifico umano è la caratteristica non immateriale ma somatica è questione del corpo il nostro corpo esprime la parola e la parola è il luogo di sintesi tra dimensione culturale dimensione spirituale e dimensione corporea ma quella parola che esprime il massimo della nostra evoluzione è una dimensione che è costituente la relazione senza parola non vi è relazione non è possibile e la parola assume senso nella relazione e quindi la funzione spiazzante di questo invito di questa persona stimabile attenta e anche per certi aspetti incline a determinare condizioni di inquietudine ebbene questa questa sperzante sollecitazione ha aperto in me una dimensione che non possiamo liquidare semplicemente sì benissimo noi siamo soggetti parlanti abbiamo linguaggio comunichiamo tra di noi cerchiamo di trovare il modo di comunicare in maniera efficace punto no è la parola è un luogo che crea una relazione tra noi e gli altri in una condizione di ambivalenza pensate a quante sfumature noi riusciamo a generare in una semplice parola rispetto al suo significato quanti equivoci vengono generati da una parola quanto non so la parola depressione ha in sé una molteplicità infinita di significati ma quella depressione deve essere detta deve essere declinata deve essere dischiusa deve essere spacchettata in qualche maniera da quel imbrigliamento nella quale viene collocata da una presunzione di sapere da parte della psichiatria che giustamente non può sapere non può sapere perché il sapere la verità non è patrimonio di qualcuno in particolare ma è qualcosa dentro la quale noi viviamo noi abitiamo la casa della parola e quindi l'invito di oggi è di fare sempre molta attenzione perché la parola non è semplicemente dire anche l'ascolto la vibrazione di quel suono che contiene un significato molteplice contemporaneamente una contiene una modulazione di toni che si riverberano nell'ascolto se quella parola è detta in un tono io la interpreto in un modo se la dico in un altro tono verrà interpretata in un altro ancora quindi dobbiamo stare molto attenti però non dobbiamo mai sottrarci alla parola perché questa è veramente la vera cura dell'anima la parola e deve essere una parola che la persona che mi ha sollecitato su questo terreno che non voglio esaurire oggi è solita definire capace di essere sollecitante e quindi anche dura è chiaro che la parola melliflua non incide per niente sulla capacità di stimolare viene attenuata nella sua espressività e anche attenuata da una chiusura credo che la questione che mi ha rivolto è una domanda precisa di aprire una riflessione sulla parola una parola che però dischiuda chiaro che ogni parola ha una sua radice si chiama etimologia che ha origini antichissime millenarie ma molto spesso noi quelle parole le abbiamo totalmente distorte sottratte al loro significato autentico però quei suoni io penso che riverberino nei nostri corpi anche se non ne comprendiamo il significato fino in fondo e ci riportino inevitabilmente all'origine a quello che noi abbiamo sviluppato dentro di noi a partire da una eredità millenaria che non è mera genetica ma sicuramente incide sulla genetica stessa è l'eredità culturale che è dentro di noi allora anche se è estate impariamo a porre massima attenzione alla parola non sottraiamoci alla parola impariamo a significarla nella relazione nella disponibilità a metterci in gioco tutti appunto nelle relazioni quindi anche i programmi dei club siano luoghi non di parole banali ma di parole che chiedono partecipazione per essere capaci di generare senso se uno va da solo al club senza la famiglia o si crea una forma di separazione tra il soggetto ritenuto patologico e la famiglia ritenuta normale come mi è capitato di vedere in questi giorni in alcune pratiche professionali viene convocata la famiglia per parlare della persona problematica assente invitandoli a sorvegliare la persona stessa io credo che queste pratiche rievochino in maniera inquietante la questione del manicomio diffuso cioè la persona sofferente non ha più diritto alla parola non ha più il diritto di esprimersi quello che dice non ha nessun senso nel senso che saranno i normali a porla in una condizione di sorveglianza guardate che tra poi il passaggio tra il sorvegliare e punire è molto è molto breve è chiaro che non sarà una punizione in senso classico ma sarà una punizione che determinata dal fatto che la persona non ha più diritto alla parola questa è la vera punizione che il manicomio diffuso oggi sta in qualche maniera rappresentandoci in maniera drammatica quindi usciamo da questa condizione e incominciamo a sviluppare una riflessione nei prossimi mesi su una parola che salva e salva solo se è capace di essere autenticamente inserita nelle relazioni buona giornata a tutti